Buonasera, ma è vero che il potente Berlusconi starebbe per comprare la Sicilia? Ma veramente il signor Silvio può anche averle tutte queste soldi di comprare anche isole entere e ci credo che a lui è possibilitato di comprare anche isole. Ci credo a questo. Anche la Sicilia si potrebbe comprare. È ricco, è un miliardario che nessuno lo può battere, neanche Onassis caccia la flotta navale. Secondo me i suoi poteri sono brillantissimi, sono buoni, sono aristocratici, sono anche nella politica che è un bravo uomo politico, anche un onorevole. Grazie. 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 Grazie.